Scandalo ad Amici 23, Ezio Liberatore svela la verità su Anna Pettinelli e il Talent Show. Ma prima di rivelarti i dettagli dietro queste rivelazioni, ti chiedo di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Nell'ultimo colpo di scena ad Amici 23, l'ex allievo Ezio Liberatore ha tirato fuori i dettagli esplosivi del suo rapporto con la professoressa Anna Pettinelli e il Talent Show di Canale 5. Le sue dichiarazioni sono state forti e inequivocabili, rivelando un lato oscuro del dietro le quinte del programma. Ezio Liberatore, scelto da Anna Pettinelli nella scuola di Amici 23, è stato protagonista di un'uscita controversa dalla trasmissione, ma ora ha deciso di fare chiarezza e di condividere la sua verità. In un'intervista con Tutto Notizie ha criticato con vehemenza la sua ex coach e il contesto generale del Talent Show. Il cantante ha accusato i professori della scuola di essere fortemente influenzati da fattori esterni, sostenendo che le loro decisioni non sono completamente autonome. Concentrandosi su Anna Pettinelli, ha denunciato un'inesperienza e incoerenza nel modo in cui ha gestito la sua partecipazione. Ha dichiarato con me ha cambiato idea nel giro di pochi giorni, da una puntata all'altra. Per me è stata una sorpresa, non me l'aspettavo in maniera così drastica e improvvisa. Mi è sembrato come se fosse già stato deciso. Liberatore ha parlato anche della sua eliminazione, esprimendo profonda delusione per la mancanza di empatia e la sua uscita come un fantasma. Ha sottolineato, dopo due mesi di lavoro insieme avrei voluto un'uscita un po' più dignitosa. Non ho avuto saluti da nessuno se non dai ragazzi. Una cosa che ho visto lì è che c'è poca empatia, soprattutto, in seguito a un'eliminazione. Queste rivelazioni portano una nuova luce sul dietro le quinte di Amici 23, sollevando domande sull'equità e la coerenza delle decisioni prese dai professori. Le tensioni aumentano e il racconto di Ezio Liberatore potrebbe avere conseguenze significative sullo show.